E' un tribunale sopprimendo a settembre del 2020, questo è lo stato dell'arte, però bisogna dire, io ho letto sia il programma del governo, sia il programma del partito di maggioranza, che è uscito come partito di maggioranza dalle elezioni del 4 marzo scorso, in cui si dice che questi tribunali, non solo Vasto, ma anche gli altri tre, Lanciano, Mezzane e Sulmona, non verranno chiusi e si troverà una soluzione. In questo momento però, come ho avuto modo di sottolineare anche con altri giornalisti, in questo momento il problema del tribunale di Vasto non è tanto l'organico dei giudici, perché i giudici ci sono, sia i giudici professionali che i giudici onorari, noi siamo a pieno organico, il problema è il personale amministrativo, abbiamo una scopertura ormai che ha raggiunto il 40%, perché praticamente noi abbiamo personale che va in pensione, che raggiunge i limiti di età necessari per andare in pensione, ma non riusciamo ad avere personale in entrata, perché il nostro tribunale non risulta più nella pianta organica del Ministero della Giustizia, non risulta più perché è un tribunale che deve essere soppresso, ma è un tribunale che deve agire per altri due anni, che non sono due mesi e quindi un tempo per fare ancora tante cose e io spero che ci sia un ripristino di questa pianta organica a prescindere dalle decisioni che verranno adottate e vediamo poi cosa la politica riesce a fare, perché come ho detto tante volte è la politica che ha deciso questa soppressione, è la politica che può decidere che questa soppressione non vi sia. Grazie a tutti.